Una giornata all'insegna dell'allegria e del divertimento, quella che Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno organizzato per festeggiare la prima comunione della loro figlia Maria. Per l'occasione sono stati chiamati a raccolta moltissimi amici VIP, molti partecipanti al grande fratello VIP. Parliamo di Valeria Marini, Manila Nazzaro, Giucas Casella, Jessica Clarissa, Ilo Luce, Lassie, Patrizia Pellegrino, Amedeo Goria e insomma e molti altri. Dabbra e i ballerini quali sono? I due genitori si sono scatenati nelle danze. Carmen in un abito bianco svolazzante e lui tre pezzi scuro si sono lanciati in un tucca tucca. Del resto è stato proprio il ballerino a lanciare la moda di questo ballo nel 1971, ricorderete, insieme a Raffaella Carrà e non poteva certo esimersi dal riproporlo insieme a Carmen in occasione come questa così speciale per la loro piccola Maria. Ci uniamo naturalmente anche noi con tanti auguri per la bellissima bambina. Grazie a tutti per la visione!